Popolo del trading! Eccoci! Allora, guarda, vado dritto al dunque, non c'è tanto da dover tergiversare o farti perdere del tempo, vado al dunque. Una persona, o meglio, un ragazzo in genere, su 10.000 diventa un calciatore professionista. Uno su 10.000. Tre persone su 10.000, tre su 10.000 arrivano ai 100 anni di età. Su 10.000 persone con le quali ti confronti e parli di trading, sono tutti dei trader professionisti. Finito, ok? Quindi, qui c'è qualcosa che non va, perché la statistica è una cosa che comunque lavora bene, io la uso quotidianamente sui mercati finanziari. Quindi c'è qualcosa che non va. Allora, parliamo di questo, ok? Quindi io ti posso anche dire, chiudi gli occhi e supponi semplicemente che un domani sarai un trader o una trader, così si dice, professionista. Ok? Va bene, siamo d'accordo. Allora, sicuramente ogni 10.000 persone aumenteranno i traders professionisti o i trader professionisti. Sicuro questo, ok? Ma ci vuole un bel percorso di vita, di tecnicismi imparati, di malizie, bisogna diventare un po' navigati, eccetera, eccetera. Capitale psicologico, capitale finanziario, eccetera, eccetera. Guarda, questo è quello che volevo dire. Se ti interessa diventare profittevole, sai dove trovarmi, ok? In qualche maniera mi troverai. Va bene, ti ringrazio dell'attenzione. Il video è finito qui, non mi serve altro tempo. Quello che volevo dirti, e spero che tu l'abbia capito, te l'ho detto. Grazie per l'attenzione.